oh eccoci qui eccoci qui buonasera a tutti i buoni perché ho l'audio bassissimo dovrei esserci come state belli come state bentornati buonasera giumino buonasera anche a te bellissimo mi sei mancato anche tu come la va interruzione pubblicitaria in corso ah porca madonna allora bello che adesso twitch me lo dice in chat bello che me lo dice in chat tre minuti di pubblicità appena proprio non è che tu dici parli da due minuti di merda no 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 appena girato tanto guardate vi piace questo buff un po più presente mi sono lasciato un po i baffi per chi ha visto su isa ma come state belle adesso saluto anche chi sta vedendo la pubblicità porca troia salvi mi ricordo di lei per tipo porta aperte di colpo infarto assicurato oppure si la messi blocca e ancora ancora esattamente che siamo noi bentornato bello come stai benvenuto la taverna riapre visto si arloc come lava come lava benvenuto ho solo l'audio a sinistra si è sfondata la guffia di botto ok questo messicano dopo le vacanze perché dovete sapere che io ero più per il meme io ero su in montagna cazzo no dato lo troverò una posizione verso base ero su in montagna mio padre ai baffi ho detto sai che c'è gli faccio una sorpresa mi sono rasato tutta zero mi sono lasciato il baffonzo buonasera ragnar come stai bello come la va fatemi vedere altro che ci stai vedo anche un axel una panzi buonasera anche a te axel grazie per essere qui mi sei mancato anche tu una nostra panzi che fa tra l'altro l'abbonamento un momento un momento che è partito l'abbonamento questa merda di casa 14 mesi dalla nostra panzi ben tornata in taverna e nella gang grazie mille per il support e abbiamo uno sbrego di persone nuove che no che è successo è partito due volte quello di di panzi a random come andava tutto bene penso stato lì al fresco e ho lavoricchiato studiacchiato ho fatto le solite cose ve lo dico dietro l'angolo è pronto praticamente il corgenza di qualsiasi vecchia serie perché ci sta quello di will within quello di di bioshock di baionetta di tutto dragon age 2 è stato infinito dio cresso ha rapinato un paio di diligenze tra le altre sì sì stavo lì a fianco ai vecchietti o la borsa o la vita e niente tra l'altro sta ancora continuando la pubblicità quanto mi dice twitch c'era una pubblicità di tre minuti almeno ve la togliete adesso dalle dalle palle e via stavo dicendo abbiamo anche un sacco di persone nuove lilith bloodhunt clodi idruneresi soler merdone bellissimo nick meme vivente katana no katana life john cox del mos carletto prime e c'era di nuovo pazzi che è simile a tutti quanti per il follow vi faccio partire zitti zitti quatti quatti e grazie veramente tanto benvenuti in taverna buoni buoni carletto prime bellissimo nick tui c'è infame e no devo farlo partire anche questo tanto adesso arriverà arlock perché stai in coda comunque già grazie per i 31 mesi ma porca puttana ma 31 mesi sono un boato troppo onorato di aver raggiunto questo traguardo e per questo ringrazio la mia dipendenza internet bentornato per il 31esimo mese nella gang questi li mettiamo un attimo silenziosi perché sennò mi spaccano i team ma no in realtà posso fare tipo così che non lo sento ma fatemi rapinare fatemi ricordare fatemi un attimo riabituare ragazzi non sono più abituato poi da cinque minuti ne fa una da quattro sì tra l'altro stasera si continua si continua tra si dragon age allora raga datemi un attimo rientrerò nel mood stasera si continua dead space o il panico perché fuori sta facendo il diluvio universale sta tirando il vento della madonna immagino anche da voi ci abbiamo dead space che già una bomba atomica di per sé da solo e quindi un casino buonasera elite benvenuta deduco per la prima volta benvenuto come lava come lava dragon space si tra l'altro venerdì venerdì così nel meme cominciamo o almeno facciamo almeno una prima live su armored core che io ve lo dico io so assolutamente un cazzo di quella roba quindi è giumino lo faremo più tardi perché tanto se lo sono visto tutti quella buona e quelle quella pubblicità adesso non se la vede nessuno gundam a no quello della from esattamente ma comunque fatemi aprire tutte cose fatemi aprire tutte cose oggi fa un penino più fresco peccato che devo stare con la finestra chiusa comunque quello della proba mi fa ridere un botto io ve lo dico non ho cioè per me saranno robottoni che fanno a cazzotti eh cioè io ve lo dico sarò onesto onesto dead space eccolo qui buonasera caos come stai bello da quanto e si è tolta la chat perché dei space deve partire tanto il gioco dice tutto quello che sembra infatti io c'è mi immagino che è molto più terra terra dritto dritto delusissimo buonasera mar da quanto bello ben tornato anche a te quando baldur's gate baldur's gate ci sarà il martedì e il giovedì mentre dead space lunedì e mercoledì e il venerdì si fa il nostro bellissimo armored car armored core mi pare mi ricordo manco il nome è ma infatti per questo sarà una volta settimana parte perché non me nintendo un cazzo harlock quindi tocca vedere che tra mi avranno avuto prima no perché i robot toni sono una roba molto personale cioè io non conosco tipo nessuno a cui a parte voi dico qua in chat ma non conosco nessuno di persona a cui piacciono i robot toni per dire siamo tornati a zero notizie su tra cosa come due tutto bene tutto bene finalmente finita scuola ora sono disoccupato adesso si entra piano piano nel mondo degli adulti e si comincia a bestemmiare fortissimo armored space si 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 cae lascia perdere che voi dovete sapere che ok sono stato due settimane in montagna ma comunque le 4 del mattino dietro al computer le facevo quindi riposo si ma sempre sempre un po' di stanchezza ci deve essere la gente non lo dice apertamente per gente come te è tipo un culto ma io in realtà cioè non è che li uccido cioè dico va bene degustibus vi piacciono i piedini e fatevi piacere i piedini vi piacciono i robotoni e fatevi piacere i robotoni che cazzo ce ne frega noi oggi ho fatto l'esame di inglese e ho finito finalmente congratulazioni giumin dai che adesso un po' di riposo armored space gate 6 un mischiaticcio che tratto non vedo l'ora anche di giocare a baldur's gate io raga sono stato due settimane fermo da baldur's gate quanto cazzo ci vuole ad aprire sto gioco qua sono stato due settimane fermo da baldur's gate e vorrei una vedere mi sto mangiando le mani perché poi mi sono dovuto schermare da tutto quanto buonasera a tutti bentornato riccivo stato bene sì anche se si lavora sempre dal tuo invece come stai bello come la va viva i piedini nel dubbio i piedini sono sempre belli tra l'altro hanno censurato i piedi della special te nuovo personaggio sì quella cosa l'ho vista ma non lo capisco visto che non sarà la censura di un art a fermare le persone allora ragazzi qua the space stiamo avviando veramente un nocciolo nucleare allo un momento perché non non sto capendo se sta per esplodere la live il computer o probabilmente tutti e due porca madonna dell'audi ma sei scemo ma quanto alto ma tua madre akiba benvenuto per la prima volta in live come stai bello ma porca puttana dell'audi mi ha fatto prendere un infarto ma sei scemo ma mattissimo la rete elettrica cittadina ecco cos'è esplodere di questi giorni con tutto il vento che sta facendo si sta facendo il riepilogo delle scorse si si sta ricaricando la cash di tutte le live casomai è colpa di zeus quel pezzo di merda io sono solo notizia di insta di pagina e me non avrebbero inverosimili se fossi ah ok dite sempre dei piedini io tutto bene tutto bene siamo ritornati dopo due settimane con il baffo alla mesficana ma piano piano si ritornano normali allora diamo il via la sigla devo vedere se mi ricordo ancora come cazzo si fa sarà questa può essere il via la sigla forse sono l'unica sopravvissuta abbiamo incontrato una forma di vita aliena i miei compagni sono morti fine registrazione eccoci qua tranquilli adesso si sistema quella merda lì intanto abbiamo un uggiumino disperso in basilicata oh ti stavi guardando le vecchie live grazie ma che tra l'altro io ho notato raga c'è io mentre stavo su appunto che per chi non sapesse lì non ho internet c'è una roba che va tipo a 300k per scaricare un'immagine cioè vi ammazzate piuttosto e io ero riuscito a collegarmi sono andato su youtube io ho visto che le live di baldur's gate ci hanno fatto dalle 100 alle 200 visualizzazioni cioè non è che so sabbago eh cioè mo per carità sono numeri piccoli per youtube ok ma io mi immagino 200 cristi non dico che se la son vista tutta eh però le prime 6 live di baldur's gate so 4 ore a live cioè c'era sopra il 60% di share o come cazzo si dice cioè vuol dire che la gente almeno il 60% della live se l'è vista io ho fatto madonna cioè perché da so contentissimo ma voi dovete immaginare che io ho detto vabbè stanno là le mie live suonoritamente fanno 10-20 visualizzazioni una cazzata questa è bomba brutalmente a gamba tesa proprio madonna dell'audio giochi dell'anno dell'anno solo se si intravedono liquidi corporeasi per rispondere a caos madonna dell'audio che tra l'altro su baldur's gate si la sbornia penso sia una cosa molto molto comune ti sei visto tutte le live di baldur's gate madonna ma sei un cazzo di eroe gigaggia dei rivenditori di live in versione in ciclopedia attrae visual vabbè ma quella può essere pure effettivamente gioca tra l'altro buonasera bello come stai allora entriamo però in focus domani sarà baldur's gate oggi si muore di infarto no dove cazzo siamo allora perché io mi sono rivisto le live per le clip eh capitolo 10 rendici 1 raggiungi la navetta della direzione trova la chiave del ponte metodo scientifico si si esatto io sono tipo gandalf come dico sempre mi trovo davanti un bivio e non so dove cazzo andare eh si quelle c'è quel momento caos di ok ma infatti io immagino se vi succede una roba del genere su baldur's gate ma come cazzo fate cioè vi sparate ma tra l'altro i tasti allora avanti indietro destra sinistra scatto guarda su guarda giù vabbè interagisci stasi kit pack di stasi navigatore calpesta i miei coglioni corpo mira spara fuoco secondario ricarica varie armi telecinesi e cazzo in mazio in bari eh ti capisco ma io giusto perchè sto in live con voi perchè altrimenti morivo qua sul posto a domani con baldur's ragazzi per spassato bello no non ci gioco più perchè non si sapeva se faceva crashare il gioco jorak allora vediamo sempre il solito test adesso mirerò e fa un frame drop no prendo la bomboletta e fa un frame drop minchia due settimane si è fissato il gioco che cazzo vuol dire devo andare dall'altra parte proprio allora datemi un attimo perchè mi dovrò riabituare a qualsiasi cosa del creato eh allora era la porta addio madonna che cazzo buonasera fatal come stai bello perchè sto qua ma avevamo fatto del completismo tipo mi ero andata a ricercare stanzine del merda si iniziamo bene io stasera muoio perchè ci sta bene no ma mi piace un botto in realtà chi bec io sono un caca sotto cioè l'hai appena visto io su dragon age 2 ho infartato con una stronza che apriva una porta per farti capire ma comunque come stai fatal ti sei riposato tu durante durante le ferie però datemi un attimo mi ritempro rientro nel mood l'audio è veramente troppo alto nei miei timbani abbassiamolo di 6-7-8 mila tacche e adesso si mi perdo mentre mi riperdo leppa il riposo quello non è mai abbastanza esatto fatal ma sto veramente tanto fuori percorso perchè dove cazzo ero tornato ma tanto che armi ho che è perchè c'erano dei violini ma l'isolation si porterà fatal e io quel giorno morirò no quel giorno io sto secco in live non non mi ci metto neanche ok ma perchè c'è sta musica chi cazzo c'è c'ho qualcuno sulla spalla col violino eh si stavo facendo quel completismo là per girare tutte le robe io quark ho la fata eh si fa talarlo che quella roba l'avevo vista trovo la chiave del ponte dell'equipaggio eh ma non mi dici dove devo andare cioè io avevo visto per quel robo lì ma costa tipo 120 euro ed è fastidioso perchè è una fascetta che dovete attaccarvi qua c'è tipo che vi gira attorno al corpo e vi stringe fortissimo è una roba fastidiosa buonasera Nico come stai Bella? da quanto? da quanto? ah era lì non l'avevo visto prepariamo l'ambulanza come la va? come la va Bella? eh ho capito tu mi dici di andare lì ma io lì non lo posso usare per andare dove cazzo devo andare devo andare no non è qua perchè qua è dall'altra parte vedi su wish si così ci rimanga attaccato Jorak devo andare lì però dalla mappa a sto punto però magari spetta è da quella più avanti donna mia quanto sono rincoglionito sono contento Nico ci pare che con quel bel freschetto Gudurio si a lasciamo perdere che in realtà sta facendo delle folate di vento e di piogge incredibili quindi l'Italia le infrastrutture veramente neanche avesse fatto schiocare da Thanos una roba del genere però si comincia quel freschetto Gudurioso che ti fa prendere veramente le polmoniti no continua a fare caldo quello per adesso ancora ci vuole un po' già rispetto a stasera fanno soltanto 32 gradi e non 41 dentro la mia stanza almeno già accetto di più no ma lasciate perdere che stamattina sono sceso letteralmente dalla montagna e non so per chi abita in quei posti del genere che sono tutti praticamente cunicoli fenditure tirava un vento il mio cane stava volando via io non scherzo il mio cane stava volando via una roba improponibile ma io nell'inventario che c'ho si c'era braci che era quella più cicciona quella reggeva botta era quello leggero era quello leggero che stava morendo leppa vendiamo anche un po' di lanciafiamme ti lasciamo perdere Akiva perché questo è un gioco di merda su ste cose stava volando perché era il suo sogno meno male che mi date compagnia voi perché io sto cagando in mano vabbè ma qua non sembra esserci roba mi mancavano oh grazie quando mi dite queste robe veramente mi date un boost di energia ma un'altra volta qua siamo finiti vabbè qua c'era roba che ci poteva servire no perfetto ah cazzo ma sono delle immagini porca puttana pensavo fossero delle persone però voi non lo vedrete mai ma laggiù ci sono due persone in piedi vaffanculo ma sei scemo ma perché ma non potevo ricominciare live con Baldur's Gate ma portaggi mia ma perché questo gioco cazzo e mo mi sta a far tornare indietro sì sì se questa nave è horror fatal perché veramente ci stanno sopra i mostri e ci sta mezza luce però se fosse un attimo fatta in modo in modo decente sarebbe già più amichevole la nave dei soldati esplosa Harlock la nave dei soldati in pieno stile Michael Bay esplosa fortissimo però si sta comportando molto meglio rispetto a tutte le altre live no quello si giocherà tra qualche mesetto che ci giochiamo Dead Dead Space sì Death Stranding ok ci abbiamo un'altra ferrovia perché come al solito è andato tutto a puttane e quindi dobbiamo sistemare il puttanaio clama al plasma questo che cos'è una sera da quanto bello benvenuto ci lasciamo perdere ma anche la cosa Lilith di mettere sull'ingegnere non dici lo stronzo sull'ingegnere una torcia qua che punta troppo facile tutto bene tutto bene mi sono riposato ho fatto tante robe piano piano si va avanti andiamo di qua invece le palà sì adesso esplode Fatal come minimo che bello però mi piace un sacco da me ma so per se ho mangiato tanto bene così mia madre si è proprio sfogata qua un culo va bene immagino che la chiesa l'hanno fatta qua poi 6 per 6 o 36 si sa mai che si rialzano no ce ne stanno troppi spreco tutte le munizioni del creato tutte spreco qui c'è qualcosa ma che poi cioè si sono tipo fasciati ah perché si sono cavati tutti gli occhi no perché sono tutti fasciati e tipo sgozzati di dissanguati una roba del genere qua che ci vuole la chiave di Goldrake è normale non è di mattina mattina in oaglio bentornato giumino questo è tipo un idolo fake l'hanno fatto con il patafix va bene io esploro si perché è uno dei pochi che conosco Arlock su quei cartoni che si vedeva veramente l'ira di gristo da anni fa poi con questo baffo non vi sembra un po' più anzianotto tipo lo zio quello che poi vi molesta no ho sbagliato ma anche magari cioè almeno quelli ci avevano del senso questi mi sanno soltanto di persone schizzate male ah scusa la gamba te l'ho strappata io devo andare di là noi andiamo di qua salve eh vabbè ho capito ma questi si trasformano tutti dai ma tanto io sta strona vede merda la faccia basta è continuo eh ce l'avete fatta vaffanculo vostra madre tanta roba essere no no non diciamo cose non diciamo cose giumino qui c'è una scheda un rig avanzato basta niente tutto qui si è back di 1949 più o meno ma faccio esplodere la nave altro che non vedo l'ora perché tanto sta in nave esplode usa il modo telecinesi per afferrare le palle la palla è tirare negli anelli prima che scada il tempo il superamento di ciascun livello dà una ricompensa che può essere scattata dagli armadietti quando il centro di un anello si illumina mira quell'anello per ottenere un moltiplicatore di punteggio si gioca che anelli ma è la madonna eeeh vabbè ho capito poi se sbagli spawnani i mostri che te sei in cu streamer la giaccia per molestare basta che qua ci chiudono tutto va bene accesso a gravità zero z-ball siamo crashati no è streamlabs che mi fa prendere in casa usa le telecinesi per afferrare le palle tutto collega la lord lì ci molestatore ecco qua ok quindi ma questa è una batteria ah perché devo riattaccare il gioco eh ti pare che ci stavano i bambini non ci vedo un cazzo dove sta l'altro bambino che non lo vedo tra l'altro sempre collegato al lich molestatore questo mi piace come sta ormai un cannone atomico no io ho una cena di famiglia o sono molto molesto o sono molto zitto non c'è una via di mezzo lì c'è un altro drop come si andava dritti così dove devo metterla sta batteria di merda c'è qualche buco ma non il bambino c'è qualche buco che non sto vedendo sopra forse fuori dove sta l'altro bambino che non lo vedo lì c'è 2808 addio madonna dai fuori tanto starà qua no ah no perché questa serve qua e la palla là dentro ma devo spararci i bambini forse perché non vedo palle qua eh vabbè ah ma perché doma porca ma mia ciappa secondo livello ma perché dovrebbe essere difficile non ho capito raga io vado come metto dentro io le palle ragazzi nessuno soprattutto no vabbè non posso continuarla perché poi diventa brutta davvero ma forse che a un certo punto ti fanno spawnare dei nemici no escono tipo dei bambini dei tubi che te rompono i coglioni opporse perché già l'ho uccisi può essere per quello il ragazzo c'è cozzetto raga ma io che ci posso se dentro non ci sta un potenziamento finale aie uno l'ho missato anche michael jordan manca fuori classe a 0 g ma che poi era proprio veramente un campo da basket ma forse perché era un gioco da fare in squadra no cioè sulla nave c'era uno là davanti che parava o qualcos'altro personaggio la mia arma spara proietti la mia fa fusione nucleare sì questa è la mia arma preferita la chiamavano busta del tè o anche detta team bag giustamente a 10.000 e va bene va bene dai abbiamo trovato 11k di roba mica se but secondo i beni a 3 miglia zaki l'elden lord ero io giumino buonasera star come stai bello benvenuto io sono venuto da lì no sì infatti era andato dritto come la va come la va ben tornato anche a te game over armadietto bonus che ansia vabbè vabbè che ti reggi il rig giustamente ti leggi il rig perché sei allontanata da te tu mi fai prendere l'infarto e che cazzo togli sto tavolo perché sento odore di ingulata sento odore di sotto non si può dire tesserino punto equipaggio alla prossima col ca corri 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 eh ehi bambini ehi vaffanculo di bambini merda finito devo potenziali lanciarazzi sì lanciarazzi magari il lancia fiamme perché fa veramente troppo poco male dici il napalm ricorda il napalm ciao l'enattimo ma tu sei ah no è che sei quello che partorisce quando ancora non muore ma che figata sta roba sta roba è veramente figa ma 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 porca ma io sono nato ieri te si mettono così va avanti dai accia pure tu C'è un altro Sento dello schifino che si muove Minchia questi erano tutti i cadaveri che potevano Ci siamo bloccati Che cazzo Allora ragazzi sappiate che voi vedete tutto fermo Ah no non è vero No no non è vero Allora questa è una cosa Non ho idea No voi non avete idea di cosa Io c'ho davanti Death space così Ve lo giuro Io che non so nel streamlabs Non mi sto muovendo Quindi Allora col terrore che qui esploda tutto Tanto esplode Proviamo andiamo di qua Un cazzo Torniamo di qua Ok ho fix Sì no non lo so che voi mi vedete Ma voi dovete sapere che qui è tutto glitchato Streamlabs win Ok qua pure è tornato Ragazzi perdona Quello era un Quello era un blue screen Che ci siamo salvati Quello era un blue screen del gioco No non è mai troppo giomino Soprattutto quando stavo dicendo Questi Erano tutti i cadaveri Che quegli schifi Potevano Animare Cioè questi erano tipo 20 nemici Era sì Era una prova tecnica Più tardi facciamo quella giusta Porca puttana Ma guarda Io Death space 2 Non vedo l'ora di giocarlo Ma Perché sarà meno glitchato eh E meno pesante Allora devo entrare là dentro Immagino sì Ma prima devo far esplodere il pappagallo Perché mi da dei crediti Qua c'era in realtà pure un negozio Che devi fare Streamlabs In realtà qua c'entra pure poco I problemi Oh Oh In realtà facciamo partire l'annuncio di giumino Che raccimola un po' di soldi Per la gang Tranquilli Grazie per il support A chi se la vede Grazie a chi ha fatto anche l'abbonamento E poi ci avete 45 minuti Di live Senza rotture di coglioni 60.000 Eh devo andare a fare La battona sull'autostrada Perché non c'ho i soldi Vindi pure l'anima Questo da 10k Per comprare l'armatura Ragazzi Siamo diventati poveri Dai questo è un curioso Perché oltre questa O diventa tipo Tamarra O non ci sta Ancora più corazzata Madonna Ormai siamo un soldatino Questa è l'armatura massima Infatti Madonna Questa è proprio da tankerino Che rumore strano Era un Si era glicciato Ok Adesso si comincia a potenziare Anche l'armatura magari Oppure diventa il Doomguy Gli parte il chitarrino in testa Salviamo che non si sa Madonna Viva i soldi Questa la facciamo partire Tra un po' Neko Perché l'abbiamo già fatto partire Quello di Di Giumino Ricordamelo Tra un po' Bella Abbiamo i giorni Della settimana Ai giochi Yes Lunedì Mercoledì The Space Martedì Gio Martedì Giovedì Baldur's Gate Venerdì Ci sarà Armored Core Si si ho salvato E' sta stanza Che secondo me E' la fisica della roba Non me l'aspetto Ma in realtà Guarda Mo Pure perché Io mi sono messo a fare Tanto completismo Quindi togli magari Una live Ma in realtà E' onesto Cioè poi Pensa poi Che poi Dobbiamo giocare Anche in New Game Plus Ovviamente Speed rannato Ragazzi Non vedendo se le cazzin Per vedere il finale segreto God of Armored Core Ah no God of Armored Core Sono scemo E anche oggi Lascia il gioco Come la sapete Guardate Io Ripeto ragazzi Cioè finché fa questo Lo accetto Cioè finché fa un crash Del cazzo Va bene Per chi è stato qui Fin dalle prime live Ha visto che cazzo faceva Non tagliate Dico eh Le prime live Non tagliate Che cazzo faceva Sto gioco Siamo tornati Sigiumino Tra poco esce Stavis Anche se io Non è che Lo attendo Con tutta questa Trepitazione Però magari Si porta Un paio di live Chi se la scorda La prima vera Eh la madonna Allora facciamo tutto Prendi l'oggetto Così Lagga Fatto Spara così Laghi Bravissimo Vabbè Registrazione Delle chiave Di sicurezza Sì Quello però Era il mio pc Fatal Indaga Sugli alloggi Di Merz Sento un rumore Brutto Ah Io Eeeh 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 La Jador Che cazzo Era Questa roba Cosa No raga Sta Sta caricando Qualcosa Di totalmente Nuovo Ecco perché Fa così Sta caricando La cutscene Signor Temple Direi che La sua Utilità Si è Esaurita Ancora vivo Signor Clark E Grazie a questo Ingrato La convergenza Mi ha ancora Negata Aspetta Dimmelo Voglio sapere Cos'è la Convergenza Lo sa Già Morti O Viventi Avvertiamo Tutti Il Vero Scopo Del Marchio Non Vuole Riunirsi Alle Persone Che ha Perduto E Io Sì Allora Perché Non Aiutarmi Il Signor Temple Si è Rifiutato Ma Siamo Così Vicini Magari Matthew Mercer Harlock Meno fareva La strage Morivano Tutti Sono Solo L'inni Episodio Crosso In realtà Il Marchio È L'assoluto Ecco qua Fatale Caccia fuori La Matematica Si comunque Questa roba Che sta Facendo È Perché Quelle Sono Tante Piccole Cose Nuove E Quindi Le sta Caricando In cash Ma Porca Puttana Quelle Sono Tante Piccole Animazioni Effetti Che Non Abbiamo Mai Visto E Quindi Li Sta Caricando Che Bello Essere Tornati In parte Due Tranquillo Fatale Comunque Tanto Ve ne Dice Lo Giochiamo Anche Perché Ho Visto Tipo Zero Niente Di Armored Core Se non Quello Che Mi ha Fatto Un po Kyle Le Sì esatto Mi ha fatto venire solo l'hype Kyle Essenzialmente Mi ha fatto venire l'hype E basta Allora Aspettate No raga Ma qua è proprio Qua è proprio una merda No no Qua è proprio una merda Ma greve Speriamo che non rilascia Sì se crasha di nuovo La schippo Sperando che se possa Che tanto pure qua Mi sa di roba Che hanno messo Prima Che ti spiegano Ti fanno un po' capire Che è Riunirsi con i morti Quella roba lì La convergenza La vedremo nel 3 Quindi dovrei aspettare Ah non è Non succede Qua Peccato Il signor Temple Si è rifiutato Ma siamo così vicini Tutti gli avvenimenti Della Ishimura Sono solo l'inizio Se la metti così Tu E il tuo marchio Potete andare all'inferno Peccato Era una sparaghiodi Era un fucile a pompa E miniatura Credo Che la sua morte Sarà più rapida Ma che tanto chissà Che greve infatti morire Mentre sei in stasi Ancora tu Aspetta Chissà che greve Morire Perché se è tutto rallentato Vuol dire pure Che te ne Cioè Tutti i tuoi Ah Porca Madonna Ah Porca Dio Ah Porca G Ah 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 Dai Dio Cristo Ah 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 Eh siamo tornati Ok Non metto Ne parliamo tra un po' Ne 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 parliamo tra un po' Perché qui non gli piace Tanto a Porca puttana Ma quanto potete fare un gioco Veramente Ma Ecco qua Quando spoiler il non spoiler Pianto disperato Pianto disperato Misto rasato e psicopata Misto risato e psicopata Nessuno entra in quella stanza No questa sì Questa è la follia Fatal Si sente Aria di casalici Porca puttana Ah va bene No Non mettere in pausa Isaac Se ti muovi Magari Ma raga ma Cioè qua Qua è merda Porca Allora fate entrare in giro con tutti i vari asset Fate entrare in giro con tutti gli asset Mo se stabilizza Vategli un attimo Ok la ricarica l'abbiamo fatta La presa dell'oggetto pure Piano piano Allora Uh ma questo Oh Ma è il marchio No no ma quello è il Il gioco che è una No non mettere in pausa Questo è il gioco che è una merda Giumino tranquillo No worries È il giumino È il gioco che è una merda Tranquilli tranquilli E va in risonanza con lui Controllo Madò Ma che bello Però ci sta sfottendo pure a noi Tu accuccia un attimo Allora devo fare qualcosa Allora guardarlo o fare incoglionire Isaac Giustamente Allora di qua mi sa che non è Che c'è stava scritto Fuggi dal cacciatore Ah ma dentro era soltanto per venire a guardare qua Non è che puoi fare qualcosa No ma infatti stavo esplorando perché vedevo dei drop ma Non è Non dobbiamo stare qua Apri tutto Vabbè Sì si torna anche lei Mamma mia Esci da sta zona In grazia di dio Veramente No qua siamo rallentati Minchia è sfottuto tanto Sente la voce di Chen addirittura Perché si può Ah perché ti riunisci con i morti Ma ci pensi tu vero Isaac Tutto tornerà esattamente come prima Ma che figata sta cosa Cioè la cosa che diceva Ho visto Non era una visione Del padre morto a letto Era il padre che gli parlava Perché diventare uno è riunirsi ai morti Ma che figata No ma perché tecnicamente mi pare pure Non mi ricordo dove cazzo ci sta sta cosa Kyle Che c'è la teoria dell'uno no Del Vite e morte Che sono una cosa sola Tutte quelle robe lì Però fighissimo No non ci ho fatto caso davvero Ci ha sfottuto giustamente il cervello Anche perché stavamo a fianco al marchio Sono io Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace per tutto Eh Isaac Siamo andati eh Io te lo dico Isaac Qua la testa Boom boom Via Non c'è più Morta Sì sì Sempre verificare che siano morti Gli stronsi Mi dispiace Prova a rifresciare Giumino Perché qua non vedo frame persi Scusa non c'era uno di quelli che si Ah e allora mi sa che è quello giumino Tazzo grazie che mi ti stai vedendo in autostrada Bello Cato molte persone mi hanno detto che mi si mettono anche mentre lavorano al Mac Io ero tipo Mi immagino io che bestemmi strillo in una cucina di un Mac in Italia Fantastico cazzo No non credo Arlok Spero di no Vabbè che tanto pure io Cioè finché la senti solo e non la guardi Sì si sente Si sente una musichetta di sottofondo Tra l'altro così facciamo Ok anche la nostra Contenta la nostra cara nego Cazzo per averci murato un po' di soldini Bella Sì colui che parla tutto così Che cazzo di merda Ma non è che sono io e Vorrei poterti parlare Sono io Mi dispiace È la È la ragazza di Isaac Perché è morta Perché gli vuole parlare Che gli dispiace Tornare uno Io Cristo vaffanculo È twinkle twinkle star star Vaffanculo che cazzo di infarto No Oh questi sono soldi Quelli sono Sono soldi Non me li fa prendere Eh sì perché è il marchio Che lo sta rincoglionendo Perché giustamente Già quel coso Ogni volta che pulsa Ti scoppia la capoccia Isaac è andato letteralmente A Cento metri Ma magari A dieci metri La sua testa ragazzi È appena implosa È appena implosa Fortissimo La ragazza si chiama Genoveffa Che bel nome Genoveffa Posso vendere qualcosa La mia anima Vendi un po' di questo Madonna quanto spazio Nell'inventario Ci abbiamo adesso Figata Figata Un nodo Certo Twitch Anzi Streamlabs Pure un po' più piccola Cosa Io ho tanto così De chat In cui posso leggervi Adesso che c'è la pubblicità Tanto così C'è scritto C'è sta pubblicità Bro È una roba È enorme Dio Cristo E ricarichiamo tutto Allora io devo andare Di là Vado di qua Non voglio analizzare Questa cosa giù Probabilmente sì Visto che comunque È roba morta E chi è sta Si era comunque Instabilissimo È instabilissimo Stavamo anche crashati Per un attimo I Corgenza usciranno Nelle prossime settimane Cioè penso che Ci sarà un periodo In cui ne uscirà Tipo una settimana Perché con Almeno Dragon Age 2 Ce ne sono usciti Quattro Perché ho fatto Per ogni capitolo Quindi capitolo 1 2 e 3 DLC C'è sta Devil Within C'è sta Bayonetta Bioshock Insomma ce ne stanno Un po' Ho fatto anche già Le grafiche Tutte le cose È bello che io Colpa Colpa del marchio Colpa del marchio Si ci sta facendo esplodere Veramente il PC Qui La porta È il nemico finale Ma perché sta caricando Una quantità di roba nuova Perché si vede che deve essere Tutto sfottuto Col fatto del marchio Quindi è tutta roba Costantemente nuova Lo sta Devastando Chiamo il lag Si è il mio potere Nego a quanto pare Questo è il terzo Eh si Si porca troia Aria di mare Aria di casa E il gioco ha risposto Mi stai sfidando Potter Ho fatto Buon Buon Oggi si sta comportando Ben si tra l'altro Mai l'avessi detto Fatal Mai No infatti almeno Non mi fa il blue screen E fu così Dove cazzo Avevi salvato Ma davvero Non manco me ne era accorto Ormai è diventato talmente Parte di me Il salvare Ragazzi Che non me ne accorgo Tu osi sfidarmi Allora Prima che esplode tutto Spara un colpo Così lagga Ricarica Così lagga Pestone Stasi Così laggi Spari Così laggi Abbiamo fatto I movimenti base No Facciamo pure così Li togliamo tutti Buonasera Samuele Da quanto Spinta Per l'ascensione Dell'umanità Pausa Vero Inventario Togliamo tutto Della trascendenza Tanto c'era anche Un dialogo bello Di Mercer Madonna Sintomi Mania Allucinazione Comportamento Violente Qual è stata L'ultima goccia Signor Clark Il dolore Oppure il senso Di colpa Ok Ma lo sapete perché Perché è crashato Il gioco Perché doveva Calcolare la fisica Di tutta sta Pila di merda Sì esatto Qua anche nel dubbio Tu dici Si sa mai Ogni save Si fa pure più e più volte Alla mensa Speravo ci fosse scritto Alle docce Ma a quanto pare no Cazzo era quel rumore Allora qua manca Una batteria Che ci servirà Per l'altra parte Ban Tecnica del dissociamento Oh chi è Intanto sono qui E non ci pezzo più Madonna Bello Grazie Samuel Benvenuto per il tuo Mi sa Siamo al primo mese Non mi ricordo Però benvenuto nella gang Grazie per il support Dell'abbonamento Bello Un piacere averti qua Grazie veramente Eh vabbè Devo andare per forza qua Non ci sta un cazzo Da via Via Eh meglio Non posso parlare Giumino Grazie veramente A tutti quanti Del support Belli Ragazzi Mi sa che il cartello Era sbagliato Per le docce Invece di qua Per le docce È di qua Invece Ah Chi beve Chi tempi Sento dei rumori Bruttissimi Perché è la prima live Arlo Che bisogna farsi Richiudere bottega Subito Ma sì Ma un text log Qua dentro No Vaffanculo Ma c'è Un In mezzo È ricrasciato il gioco Sì Guarda un po' Lì ci deriva anche Dal tedesco Sì Chiudite Però Chiudite Non si vuole chiudere Allora Facciamo vecchia maniera Ragazzi Facciamo vecchia maniera Dove Sì Devi Fare tipo Rap god Ma questo Questo Giomino Ripeto Non è il pc O Questo Questo è proprio il gioco Che una merda Devo eliminare la cache La rifacciamo Dai la rifresciamo Chiudono Buonanotte Dav Grazie per essere stato con noi Bella Ci vediamo domani Ah Ci segui Grazie loro per lurcare Gli facciamo rifare Un po' Gli shader Magari Gli da fastidio Madonna che cazzo Stiamo qua dentro Io lo sapevo Che dovevo Ricominciare Con Baldur's Gate Uno Ogni 5 minuti Appena si passa Due Si fa nascere Il bambino Dai Questo mo ci metterà Un po' Ragazzi Ma almeno Magari Ci da meno problemi O qualche roba Adi eccoci Oh è crashato stream Perché stava facendo la cassa Ragazzi Ottimo questo crash simulato Me lo prendo pure io E niente Che bello sto crash simulato Crash simulato 2023 Prima di andare Non capisco perché si cassa così tante volte Che genera Perché è ottimizzato col culo Dub Semplicemente Questo è un gioco Che è veramente ottimizzato Col culo E rispetto alla prima live Anzi Va molto molto meglio Ci ho fatto tutti i lavoretti Dietro di ottimizzazione Cazzi e mazzi vari Ma rimane che c'è un gigantesco problema Con la cache Essenzialmente Ogni qualvolta Ci sta Una roba nuova Che non si è mai vista nel gioco Che deve buttarla in cache Comincia a laggare Come uno schifo E fa crashare La live Il computer Il pc E il gioco stesso È un puttanaio Sì ma L'originale Era fatto un attimo Con un po' di Era dell'EA Di un tempo Non era dell'EA Di oggigiorno Sì si ritorna col bot Allora Adesso ci sarà Anche un po' più di roba Perché deve rimettere Tutto quanto Ragazzi Perché questo è proprio Cache pulita pulita Si si diverte nel cache Sì Vedete adesso deve fare Tutta questa roba Perché Ora è proprio pulita È nuova Quindi non c'è più niente Dentro ragazzi Deve rilaggare Per qualsiasi roba Del creare Hai visto i video lì Che no Non l'ho visto Deve fare tutta sta roba Facciamo pure questo 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 Cioè vedete La cosa adesso ha tirato Sempre Ha tirato la stagherata Perché ho fatto con la Da delle cinesi Adesso no Tirerò la sedia Probabilmente staghera Non ha stagherato Buono Ah no perché l'avevo già mollata È un falato Quanto ma con una meditazione Diversa E no Non è una battuta Anche il gameplay Non ho visto niente Cioè ma infatti Non è che mi attirava Più di Di gran che E sarò onesto Tecnicamente così Non dovrebbe Grasciare ragazzi Ma non vi giuro niente Perdonate Questa purtroppo Non è roba Che è in mano a me Questa non è roba Che è in mano a me Oh Grazie anche per i 100 bit Samuel E che su Isaac 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 Mi sono Buggato su una sedia Vaffanculo Ti è rampicato su una sedia Non scendeva più Alla fine Non è che potevano fare qualcosa Ma sì ma poi è tipo Cioè io Conoscendo tutto Mi immagino tipo uno Skyrim Una roba del genere Però sai fare Ah quello sì ma perché ormai Li conosco i miei bulli Ragazzi Era salito su questo Tavolino di merda Non scendeva più Comunque grazie Stavo dicendo per i 100 Bit Samuel Grazie veramente Belli Allur Di qua c'è qualcosa C'era qualcosa Anzi Sembra di no Guardate l'idea di quanto Montaggio devo mettere Sempre su ste cazze Di live Dio e Cristo Qua tutto bene E ci sono dei soldi Via Ok Allora cerchiamo di tornare Dove stavamo prima Qua c'era un nodo Tavolamente qua non ha neanche Staggerato Saravamente qua non ha neanche Staggerato Sento dei rumori Ah i pallettino Gli fanno un cazzo Allora gli facciamo il test A più tardi giumino in caso Buon ritorno comunque Quello lo farei star Ma sono cose che A parte che vengono sciolte Da proprio la live Che crasha Che è un po' un casino Ok A sto giro È molto più stabile Finalmente qua dentro Adesso l'ho detto La crasha Tutto E chi ha qua dentro Però mi sa che ci sta Uno di quelli che fa I puzzones Perché È la Questa è la zona Quella dove ci sta La gente Buon viaggio Comunque Bello Buono Figa Ero full vita Oh Oh No Tanto la schermata Di caricamento Diventa sempre più Sputtanata Che figata Vabbè Ok Sì mi ha decapocizzato Fortissimo Durissimo Madonna Eeeh Non lo so Mettilo nell'acqua Vedi se è vero ghiaccio Mi ha decapocizzato Fortissimo Porca puttana Ma posso passarci Attraverso Eeeh E beh ho capito Ma mi toglie Tutta quella vita Mi toglie mezza Tacca solitamente Facciamo così Perché non c'ho voglia Di spostare tutto Si fa spazio No no ma mi sa Che sta roba Non si può togliere Proprio una zona Tipo la palude Di Dark Souls Basta Sì sì Questa è la paludina Di dei souls Fatta per non farti Capire un cazzo Per rallentarti E per avvelenarti A morte Basta Stesso mood Allora Il signorino Sta laggiù Quello ok Piano piano Madonna Lasciate che Quello è veramente L'apice del cancro Almeno di quella Di quel genere De roba là Mezza sta merda Di nebbia Non vedo Un cazzo Sei morto Te ne sta pure Un altro Morto? Ma dell'ossigeno? Era questo? Oh Eccolo E va Eh va Vabbè L'hunter Dio Cristo Ma così Ma no Ma l'hunter Così no E tu? Mi facci passare E si tolga Dai coglioni Posso passare? No Mi ha chiuso in bagno Ragazzi Sì sbrigati Perché io ho sfiato qua Dai fammi Tanto c'ho pure La stessa camminata Sì è un bullo Palesemente Dio Cristo Devo andare qua dentro? Sì però Prima si aspetta Perché qua c'è un magazzino Adesso mi smetano Dio Cristo Tanto tu non puoi entrare no? Un nodo Del combustibile Del combustibile E vada a fare un culo Ci sono dei soldi lì dietro Grazie Arrivederci Ma mai più eh E quanto piano Si apre sta porta Di qua c'erano Dei soldini utili Per la roba Da poter prendere Tanto sì no Ogni volta Ci fate caso Con un tempismo Con un cazzo Di tempismo Mi fanno ste cose In faccia proprio Solo ci sono dei soldi Tu sei normale? Yes Sì c'è uno dietro Ma io dovevo trovare Una batteria In tutto questo No Oddio Perché gestamente È quello tipo Power up Stappato dall'idolo Aspetta un save Che ho visto Come stanno stasera Veramente Questi sono l'oro Oddio Madonna Che cazzo Eh ma io non ho Mi son perso Una batteria Da qualche parte C'era una batteria In mezzo A mezzo Al puzzones Che era quel rumore? C'era un batterione Gigante Non riesco a parlare Ragazzi Se vedete Una batteria Urlate in chat Mi raccomando Magari era qua Eccolo Ma tecnicamente No Giusto magari Il new game plus Comunque Io rispondo Anche se Era la chat E il new game plus Penso ce lo facciamo Tipo Veramente In una live Due Ma neanche Eh questo è il bello Delictivi Atlock No Pensavo sbucasse Dall'ascensore Sarà bisogno No Però così Ti imbari a farmi Prendere un infarto Picco De puta Ah Siamo Fanno proprio Backtracking Potente Ma sì Ma perché Sbucano proprio Da dietro Gli angoli Così Eh Ma con Una sciallanza Sti stronzi Camminano proprio E ti corrono In bocca No Guarda Guarda Quello è stato Il panico Definitivo Che quella è stata Una cosa Che veramente Ha staggerato Perché doveva caricare Quella roba Comunque Uno direzione Dello spazio Tempo Buonasera Pitonella Come stai Bella Buona pausa Buona pausa Ok Perché adesso Posso andare Cosa cazzo Stai caricando Perché vedo Che laghi Come lo schifo Stai caricando Qualcosa C'è qualcosa Che mi deve saltare In faccia Un messicano Un messicano Nello spazio Hola Como estas Tengo un puerco In mi tasca Devo andare lì Yes E quindi noi Prima andremo A salvare Ovviamente Andiamo Ovviamente A salvare Non c'è niente Di qua Dark Souls Non vi impara A mettere la roba Dietro gli angoletti E lì c'è qualcosa Come vado lì C'è una stanza E la trama Di Returnal In Messico Dato di Returnal Io ci ho giocato Un po' Veramente Veramente carino Però non so Perché non mi ha Non mi ha tenuto Così attaccato Come Un altro Roguelike Light Sì esatto A me l'ho salvato Nico Balla Porca traia Era dalla prima live Che non succede Tutto sto casino No ma infatti Cioè mi intrigava Perché era estremamente Veloce Aveva proprio Quelle robe Precise Poi andava A devolvere Piano piano Però il fatto È che se sei bravo Te lo mangi Cioè mi ricordo Che Returnal Lo finì Nella prima run No Nella seconda run E questo è il quinto Sì sì Stasera È anche per le persone nuove Si vedono Cosa abbiamo Sulle ctivi Eh hai fatto Tipo bomba Fiore Raga ma sta roba Comunque non è normale Cioè aspettate Do un attimo Anche un altro Cuscinetto io Bonnie Faccio questa roba Che veramente Neanche quando avevamo Il computer vecchio Con Elder Ring Dovevo mettermi A fare sta cosa Quindi facciamo Questa cosa Neanche col computer Vecchio Con Elder Ring Davvero Allora stavo dicendo Returnal Io tipo l'ho finito Alla seconda run Una roba del genere Eh Ma in realtà Rimaniamo Cioè Stiamo bene Vediamo se questi Hotfix rapidi Indolori Sono serviti a qualcosa Manco per il cazzo Ma questa è roba Che va fatta esplodere No mi sa Che è roba Che esploderà da solo Sì In realtà È tutto voluto Kyle Per farti capire Cosa sta provando Nella sua testa Clark Bene Ma che peraltro Che Daniels Sia 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 un impostore Effettivamente Ci ho pensato adesso Potrebbe Tranquillamente far parte Di un mitologi Spiegherebbe perché È stata una incoglionita Per il 90% del gioco Ricordati i proiettili Sì sì Questi ce li abbiamo Sempre qua pronti Ma No non mettere Raga Raga Ma scusate Ma era solo Sul mio schermo O quei glitch Grafici ci sarebbero Cioè ci sarebbero Ci sono stati Dei glitch Grafici Ma Tipo Pesantissimi Ma che cazzo Era quello Se si è visto Ma comunque Quando succedono Queste cose Mi fa veramente Pensare che Si è esplosa La scheda video Siamo a una Ogni due minuti La storia Perdonatemi Per la live Di oggi Davvero Cazzarola Cioè si Si vede proprio Quel momento In cui Ma glitch Veramente A livello Che non riesce A caricare La roba Ma Pesante Cazzo Cioè Quelli Sono dei referti Veramente Che indicano Che vi sta esplodendo La scheda video Peccato Che questa scheda video C'ha veramente Neanche tre mesi No Beh tre mesi No Però avete capito L'antifona Si si Sembra veramente Che sia Impossessato Dal demonio Ma poi Spaventoso Perché E' una roba Bruttissima Dove cazzo Hai salvato Ho capito Raga Ma no Oh Io spero Che sia soltanto Sto pezzo Perché c'ha Qualche casino Che non sto Capendo Niente Trip Rilevata Anomalia Pericolosa Quarantena Accurata Eh sì Attenti al gioco Lui piace crashare Grande Che Ma perché dovevi Caricare Cioè tu Hai fatto Quel crash Della madonna Perché dovevi Caricare sto Scontro Io mi aspettavo Dovessero spawnati Tipo Dieci nemici Venti nemici Cioè Ordate Quelle big Erano tre stronzi Dio cristo Arca Puttana Va bene Tanto manca L'elettricità Ovunque Qua Qualcun altro Ma che perché Poi pensate Cioè come fa Un gioco Andare così Cioè passare Da questa fluidità A A quella Merda Come fai Butta Butta di là Distruggi il viticeo Degli alloggi Deluxe Ok Questa merda Qua Devo distruggere Dio c'hai un braccio Comunque Cioè Ci siamo a livelli Di 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 rottura Mentale Veramente Tra il gioco Il La drama I Sta esplodendo Tutto Dio cristo Che tanto Quello mi sa Che era pure Tipo una sorta De capitano Perché aveva Quella tuta Particolare Perché giustamente Queste sono le zone Quelle deluxe Quindi sono quelle Dove ci stanno I signorini Mecoglioni E adesso Ho paura Però ragazzi Dove andava Messa la batteria Non di qua Tu muori Via Ok Becca Arrivederci Sento dei rumori Bruttissimi Va bene Si interruttori qua Servono ad aprire Essenzialmente Le stanze Luci Porte Infatti partiamo Pubblicità Grazie mille Per il support E anche Chi ha fatto L'abbonamento Infatti no Parte tra Un quarto D'ore In realtà Sono Sono stupido Dio Isaac Scusa Ho fatto tardi Come stai? Mia Mia madre Oh Octavia Come stai? Come stai? Come stai? È morta Nicole Lo sono Invece Ha ucciso mio padre E si è uccisa La chiesa Hanno preso I corpi Prima che io Oddio Oh Isaac Mi spiace tanto Fottuta Io Mi toccaci Basta Basta Non parlare Hai detto Che era di nuovo in sé Che sarebbe stata meglio a casa Ti ho creduta Dio È come se li avessi uccisi tu stessa Stava meglio Tu mi hai detto di imbarcarmi su Nishimura Mi hai spinto Mi ho detto di imbarcarmi su Nishimura Mi ho detto di imbarcarmi su Nishimura Mi hai detto di imbarcarmi su Nishimura Sai che ti dico Vai andiamo a Isaac Nicole 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 Non volevo Dio No Non anche lei Isaac Non so se è lui Che è talmente tanto sciolto De capoccia Che si è immaginato Un sacco De robe Mi dispiace Posso aggiustare le cose Mi dispiace Posso saldarci Mi dispiace Per tu La nonnina Si è ingazzata No è che Ok è per quello Che il capitano Gli diceva Quelle cose Perché Isaac Ha sbottato Contro Nicole Perché era una psicologa Aveva detto Tutto a posto Sono sistemati Invece poi ha fatto Il fattaccio È per quello Che era contento Di aver ricevuto Il video A inizio gioco Perché non la sentiva Da un tot Probabilmente Qua dentro Qua dentro pure Tutto pieno De roba Ormai I computer Sono pieni De robe Con i xenomorfi Con i necromorfi Questo è un cuore Devo conservare tutto Mercer è un mostro Studiava come il marchio Influisce sul cervello E come Oddio Ah Dottoressa Brenna Mi lasci indovinare Terrence Kain L'ha fatta entrare Peccato non sia qui Non Non ha capito Come questa Tragedia È un'occasione Desculpa Speriamo Non ci sia Continui Queste creature I tessuti Rianimati Immortalità A livello Cellulare So che Non siamo mai Andati d'accordo Ora capisco Salvare così Tante persone Dunque è venuta da me Perché lei Sapeva comunicare Con il marchio Sono così vicina Pensavo che ce l'asse I segreti che cerco Ma lei È una donna Di scienza Non di fede Lascia a me Il marchio Questi sono Gli appunti Dell'autopsia Molto approfonditi Dovrà farli valutare Da un collega Ovviamente E il povero Terrence Non può aiutarla Sì Credo Una sola persona Ora Davvero Molto approfonditi E utili Per la prossima operazione Eh quando pare Si Harlock Gli piaceva soltanto Dissezionare le persone Ma questo non l'ho capito Perché sarà pure Ok Cioè Perché sarà pure Col fatto che non c'è Il gioco da due settimane Cassi e mazzi vari Ma devo interpretarlo Come Nicole Se stava piano piano A spostare Verso un'idologi O come Nicole Gli ha detto Sì sì C'hai ragione Per fottergli Delle informazioni E pedasse Cioè Perché io Più leggo Ste robe Più mi sembra Che magari Lei Se sia unita Alla fine A sta roba Questo Ah questa è la Radiografia Del tizio esplosivo Gli si uniscono Le gambe In una C'ha un braccio Un po' più lungo Gli si spezza Il crane a metà Non a caso E pompe fune Vedaggino Questi sono quelli Che infettano Madonna Che belle Ste cose Dio Cristo Che belle Eh Oh Tanto questa È tutta È tutta roba Che tu puoi Tranquillamente Saltare Cioè Questa non è Roba Che ti devi Vedere Per forza Perché tu puoi Andare anche Dritto Giocava Giocava Madonna Che inquietudine Sto posto Comunque Che cazzo Di inquietudine Ecco perché Stavo a fare Tutte queste Aggerate Ma chissà Quanta Quanta merda Di roba C'è Beh Questo era Uno Quello era Uno Quello era Un altro E qua Abbiamo Fatto Porca Troia Sta arrivando Qualcuno Perché sento Dei rumori Di merda Cioè Se sono tutti Ammazzati Però Volontariamente Cioè Quella è la roba Tutti si stanno Ammazzando Di propria Sponta Sì Di propria Volontà Peccato Però perché Io dovrei Entrare Qua dentro Quello Ha capito Tutto Che Bricconi Eh sì Ma Scusa Ma rimane Il fatto Perché Qua Beh Ma Effettivamente Tu dici Non è che Lo fanno Per Cioè Magari È fatto Perché È l'unica Via di Fuga Più O Meno Ho capito Io devo Far esplodere Sto Coso Ma è Quello Ma sta diventando Ma sta diventando Sempre più Più Io so Io Oh porco Oh porco Pure tu Apri Schivo Tutto Un cazzo Un cazzo E che cazzo Di Puttanaio Ragazzi Staccavi Un cazzo Fa pure Il bambino Appeso Ma ecco Veramente Sta stanza C'erano Dentro 20 nemici Alla fine Finito Ma che cazzo De panico Era Ma no Questa è stronza C'è questa Difficoltà Più Elevata È stronza Dio Cristo La classe Più tranquilla In Ohio Ma anche in Italia Veramente Allitis Questa è Porca Madonna Dai Dai Però Che Palle Che cazzo Di Palle Chissà Dove Cazzo Ha salvato Ecco Qua Dio Cristo Stato fuori Sta facendo Un diluvio Ragazzi Ecco lui Cresi Sì sì Alla fine È arrivato E per quei due Signorini Tra l'altro Buonanotte Arlock Ragazzi Per essere stato con noi Ci vediamo domani In caso Di tutte quelle persone Ci sono state due gatte Che mi hanno detto No ma è colpa del tuo pc Vi ricordo che giochiamo Baldur's Gate Tutto ad ultra Non fa un frame drop No ma infatti Io spero che ci sia stato Un checkpoint Lilith È stato bellissimo Il nome Lilith Dopo tutto questo tempo Dove sei arrivato Di nuovo da me È ineluttabile davvero Dove mi hai fatto ricominciare? Di nuovo da me Speedrun, ragazzi Peccato che non ti posso sparare io, brutta stronza Dai, sparati Magari troppi qualcosa Ma tu pure quello scoppio fa laggare Sì, ma perché questa è proprio una di quelle robe Ragazzi, che mi toglie l'anima Mi toglie l'anima questa roba Bambino al flambesi Ah, tu sei ancora io Eri io No, lei che si spara, che ride È veramente bello, eh Cioè, io non l'ho commentata Ma anche di impatto Oggigiorno è una cosa, tra virgolettoni, comune Però all'epoca era tanta roba, eh Cioè, non è da sottolutare Soprattutto anche perché è greve Cioè, durante quegli anni Scene di suicidio e altre cose Diciamo che avevano ancora il loro Piccolo tabù Chiamiamolo così Ma io non mi metto neanche Guarda, anzi, vai Giusto Veloce perché non mi ricordo se c'erano dentro dei drop Sì, sì Su, 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 su Posso saltarlo o no? Scusa, ho fatto tardi Atti, cazzi, i tuani goal Poi anche implodere in questo momento Sono sempre se non lo sia già stata Chi è? Italiano? No, dai Me la devo vedere Me la devo sentire Sì, il gioco sta sempre con lo sniper qui Ma non c'è un modo per skipparla, sta roba Oh, Isaac Mi spiace tanto Mi spiace tanto Tanto, questo ce l'ho già sentito Ce lo siamo già sentiti preparati Perché domani su Bad Dug's Gate Andiamo con il Il ladro mistico Il ladro con la sottoclasse magica Il Magic Twister Sì, per sbloccare il pulsantino Devi pagarlo e direci Se non non glielo va bene Stava meglio Tu mi hai detto di imbarcarmi sull'Ishimura Stato fatto anche per partire una pubblicità Bello che adesso però te lo dicono Questa è una cosa molto figa Perchè altro questo vai al diavolo mi puzza Cioè, risentendolo pure Mi sembra molto innaturale Cioè, mi sembra molto Della persona tipo controllata Cioè, o veramente ti sei Talmente tanto cacato la Wallera Che tu dici vai affanculo Oppure mi sa di persona un po' soggettata al marchio Ma secondo me tu prima o poi C'hai una visione di Nicole Che ti strappa la testa a metà Ma ognuno il suo Potenziamento arma Non c'è stava nient'altro O devo vedermela per forza sta roba Perché se no non me dà la missione Ah, posso fare così Ma su, la nonnina aggiusta tutto E aggiustasse magari il gioco Allora, prima di fare qualsiasi cosa Posso fare mezzo metro senza che stagheri? Oggi è incattivito No, no, no Ma sta stagherando Sì, Star È ripata la live? Ah, il contatore a zero Ah, sì Tanto quello ormai Lo so che ci siete Non me ne frega niente Allora, in realtà sarebbe importante per Twitch Era ripata per circa qualche secondo Bene pure Ma allora, lo sapete A sto punto A sto punto secondo me È la solita cosa È che sta scaldando talmente tanto Che non ce la fa Rimanergli dietro È quella la roba Che comunque si sta power upando la merda Io 30 minuti Almeno la live è ancora intera Eh, invece Guarda Io da una parte non vedo Non vedo l'ora ragazzi Che finisce The Space Ma non perché è brutto Ma perché passando al 2 Non ci saranno tutti sti cazzo di problemi Cioè Veramente Io ripeto Se qualche mese fa Avessi saputo Che un remake C'è una roba che dovrebbe essere Sta sedia a rotelle Ha parlato il bambino Oh Sta sedia a rotelle Se avessi saputo Che un remake Una roba che dovrebbe essere Più moderna Più nuova Più fresca Più ottimizzata Che dovrebbe girare anche meglio Fa queste robe È veramente imbarazzante E tra l'altro sì Comunque è stata la pubblicità La pubblicità Ha spaccato la live Anche sull'altro mio monitor Con cui controllo Sì ti fa passare la voglia Perché ripeto Mi dispiace anche A me la cosa che Mi dispiace principalmente È che poi si vede Cioè in live è una merda Da vedersi sta roba A me è quello che frega È quello che mi fa passare la voglia Per questo mi vedete anche molto alto Un po' scazzato Su queste cose D'altro Tarca matriciana La nostra è bello E benvenuto Come stai bello Eh sì Cioè se c'è sta roba Veramente Cioè ti gira Nei maronghi Qui tutto bene A parte i vari crash Ma ormai con death space Veramente È all'ordine del giorno Ok No perché Ripeto Noi siamo anche in live Quindi il pc È molto più Stressato Quello che Vuole chiunque Però Questo non è normale Su console Non è a questi livelli Ma ce l'ha i suoi problemini Perché era stato Ottimizzato Principalmente Per console E per pc C'era un porting Fatto un po' col culo Di qua To join Us to leave Vabbè Questo Registrazione Delle chiave di sicurezza Un altro potenziamento È l'arma Così A gratis Però si ti fa passare la voglia Perché Avevi avere un crash Ma anche una staggerata Anche una staggerata È una roba Così Questo gioco È una trama Ma non per l'horror Anche perché Ripeto A me mi intriga un botto Cioè A me la storia Il gameplay È veramente una figata Però ci stanno proprio Di momenti In cui tu fai Porca madonna Cioè Non Non c'hai altre parole Che dire Leppa Perché poi Un paio di persone Mi sono venute Anche a dire No ma il computer Cazzi e mazzi Vali Ragazzi Io ricordo Che ci siamo giocati Resident Evil 4 remake Tutto ad ultra Con l'RTX Non ha fatto Un calo Cioè questo Mi sta forzando Ragazzi A fare quello che succedeva Col PC vecchio Con Elder Ring Cioè ovvero Chiudere tutti i programmi Che prendono anche Il minimo di CPU Perché Gli devi dare Tutto quello che c'hai Qua comunque Si vede che siamo Nella zona Quella un po' più Borghesotta Perché c'hanno Tutti i materiali Che fighi Vabbè comunque Torniamo in game Non Non voglio Voglio concentrarmi Sul gioco Torniamo in focus Madonna Isaac È un ladro Di CPU Sì Ah questi Sono tutti I vari capitani Madonna Che belli Sti quadri Ah no ma infatti Non gli do retta Perché è una cazzata Ma questo c'è i capelli rosa Ah no è perché Indiano Elder Ring Fatal Se è come Il gioco base Quindi open world gigante Cioè voglio Un altro anno Come minimo Madonna Che poi tutti C'hanno Sto Sto panno In testa Ma questo mi sa Che è proprio Qualcuno Cioè Erano tutti tipo Credenti Se sono messi Sto panno E qualcuno È andato in giro A ucciderli Non lo so Monestamente star Cioè Io Ma Cioè però Diciamo in dinamica In Anche Gestione del livello Cioè quella è una roba Molto grande Quindi è un puttane Da fa Ho visto la Dei convergence Che cos'è Dark Ricordami Perché sono un po' Rincoglionito al momento Noi dobbiamo andare là No dobbiamo andare dritti Noi andiamo prima di là Leppa Ah dici Ok la mod Quella fighissima Sì quella è molto Molto bella Mi piacerebbe un botto Giocarla Text log Quei maledetti Ludinitologi Controlla Finora so Che sono Capitano Matthews Ufficiale Scientifico Kain Secondo Ufficiale Scientifico Merset Tenente Comandante Holt Tenente Carillo Sottotente Pete Vrid Maynard Shandy Espeleta Tra l'altro Anche la nostra HOD si sta Corrompendo Piano Piano Natividad Così Tanti ufficiali Anziani Che sono per Caso Parte del Marchio Non può Essere Una coincidenza Riconosco Un mazzo Truccato Quando lo Vedo Aggiornamento Ho controllato Alcuni Fari Molte di Queste Riassegnazioni Sono iniziate Dopo che Il Direttore Eckard Ha iniziato A chiacchierare Con il Capitano Da quando Al grande Capo Importa Qualcosa Il Personale Ma in realtà Volevo portarla In live Primo Poi Ma come Un po' Tutto Bisogna Trovare Sempre Il Buco Perché Calcolate Che Inizialmente Che Inizialmente Tanto Qua è Successo Un puttanaio Che Night Con voi In vista Di Silksong O Armored Core Ho detto Ok Proviamo Armored Core Che Tanto Eh si Fatal Che Kael Mi ha detto Che dura Relativamente Poco Quindi Uno se lo mangia Un po' Più Facilmente No Silksong Ancora Ce lo vuole Tanto Io comunque Stasera Sbiascigo Come una Roba Ispezione Puoi Renderci Di Nuovo Uno Puoi Renderci Di Nuovo Uno Sono 3 6 7 11 No Sono 3 6 8 12 Ok Esatto Log Mi tento Identificato Al capitano Riservato Posizione Flotta Confermata Capitano Benjamin Matthews Riguardo La nostra Conversazione Prepartenza Sono L'idea di Comunicare Che le è Stato Concesa L'autorizzazione Per una Capsula Di Stasi A bordo Della Flotta Sacra Della Chiesa Congraduazione Sua generiosa Donazione Il costo Degli anni Non ho già Coperto Tutte le spese Post Mortem Vedete Questa è la Gente Cioè Perché Gli danno Perché Gli danno Tutti i soldi Perché Poi Dicono Tu mi dai Tutte Cominci a pagare Chissà Quanto Quando Tu muori Io ti Prendo il Cadavere Magari Ti faccio Qualche Roba E ti metto In Crio Geni In Crio Come Cazzo Si dice Perché Così Poi Quella Cosa Del Tornare Tutto Uno Anche se Non posso Garantire Qualche Quale Arca Poteggerà Il suo Corpo Fisico Tutte le Navi Della Flota Sono Progettate Per Rimanere Operative Per Segui In uno Spazio Profondo Sono Dotate Di Tecnologie Difensive All'avanguardia Per Sicurare Che La Convergenza Proceda Senza Interferenza All'avvicinamento Dell'ora Sacra Devo Ripetire Che Questo Posto È Dipendente Dal Completamento Del So Pellegrinaggio Una volta Che Il Marchio Sarà Stato Consegnato In Modo Sicuro Nelle Mani Della Chiesa Tutte Ma Sicuramente Sì Sì Il Capitano L'abbiamo Anche Affrontato Tra virgolettoni Lui non è Nuovo Sì Voglio Chiudere Questo Documento Non ce La Faccio Sì Siamo Ancora Nel Capito Dice Infatti Secondo Me Questo Gioco Ragazzi Sta Durando Anche Un Troppo Di Più Non Ci Ho Pensato Prima Per Tutti I Crash Cioè Anche Per Quello Ma Che Sia Questo Quello Per Fare Il Finale Segreto Perché Mi hanno Detto Che C'era Da Raccoglie Della Robba Magari Devi Raccoglie 12 Piselli E Metterli Qua Sopra Anche Perché Ci ha Fatto Rendici Di Nuovo Uno E Tecnicamente Noi ci giocheremo Il New Game Plus Perché Mi hanno Detto Che Nel New Game Plus C'è Un Finale Segreto Che Se Sblocca In Un Cacchio Di Moto Potrebbe Essere Questo Perché Mi hanno Detto Che Se Fa Raccogliendo Le Robbe C'è Per Tutta La Nave Abbiamo Incontrato Sempre Sti Piselli Mannari Quindi OS Opuscolo 2202 Per Gli Azionistici C e C Che Cos'è La Trivelazione Planetaria Prevede Letteralmente Lo Smantellamento Di Pianeti E Lune Su Larga Scala Mediante Navi Apposite Conosciute Come Navi Dato Rivelazione Planetaria Vedi Ci avevo Preso Smangiucchiani Pianeti Interi Mondi Vengono Distrutti Per Aver Accesso A Ricchi Depositi Minerali Contenuti Al Loro Interno Queste Parti Di Deteriti Fratturate Vengono Estratte Lavorate E Poi Spedite Verso La Destinazione Potresti Aver Letto Rapporti Ambientalistiche Sostengono La Distruzione Di Un Pianeta Può Ammientare Gli investitori Che vogliono Approfondire Algonomento Possono Consultare L'articolo Sicurezza E Sostenibilità L'impegno Della CEC Per La Salute Dell'Universo Per Conoscere La realtà Che sta Dietro Alla Trivelazione Planetaria In breve La Trivelazione Un Procedimento Assolutamente Sicuro Nonché Vitale Per Rater Le Colonie Sì Certo Fare Esplodere Pianeti Sicuramente Salutare Su Oltre 30 Trivelazioni Planetaria È stata Soltanto Una L'operazione A non Produrre Risultati Attesi Molti Ricorderanno Il Disastro Di Wanat Avvenuto 11 Anni Fa Nel Quale Una Nave Da Rivellazione Tre Vasciate D'appoggio E Una Colonia Andarono Distrutti Per via Di una Varietà Dei Legami Gravitazionali Poco Si parla Del Di tale Portato Non Possano Mai Più Accadere I Pianeti Vengono Selezionati Con La Massima Cura In Base Al Contenuto Di Minerali Al Valore Netto E Alla Sicurezza Prevista Dal Processo Di Di Trivellazione Le D'accogliere Della Robba In Giro No No Ma Su Sta Cosa Che Ci Sia Un Finale Segreto Sono Sicuro Perché Me L'hanno Assicuro È Tipo Letteralmente Un Cambio Di Scena Cioè Non È La Divelazione Planetaria È Un Procedimento Prolungato Che Richiede Dai Tre Cinque Anni Solitamente Il Primo Anno Dedicato All'esecuzione Della Prospezione La Preparazione Della Colonia Sulla Superficie Planetaria Per Minilizzare Le Perdite Queste Colonie Sono Intenzionalmente Un Piccolo Sforzo Queste Colonie Sono Intenzionalmente Un Piccolo Sforzo In Termini Infrastrutture Successivi 18 Mesi Prevedono Scavi Tettonici La Montezione Dei Legami Cavitazionali E Altre Attività Planetarie Correlate La Nave A Tre Vellazione Planetaria Arriva Sul Posto Dopo 2,5 Barra Tre Anni Dall'avvio Dei Lavori A Seconda Dei Progressi Compiti Negli Scavi Una volta Che Il Creare Una Cintura Asteroidale Attorno Al Pianeta Pur Trattandosi Di Un Fenomeno Pericoloso Le navi Fanno Affidamento Su Un Eccezionale Sistema Difensivo SDA Per Evitare Impatti Devastanti Per Ulteriori Informazioni Sulla Tecnologia SDA Proprietà Consultare Documentazione Di Accompagnamento Questo Cosa è un Tutorial Questo processo Si ripete Più E più Volte Fino Al Completo Saurimento Della Massa I Corpi Più Piccoli Come Gli Asteroidi Vengono Portati In Anestitiva Mineraria E Crashato Il Gioco Ed Elaborato Direttamente Utilizzato Raggi Di Lavorazione Diretti Per Ridurre Gli Sprechi Credo Sia Crasciato Il Gioco Siamo Crasciati Anche Noi Appare Presto Chiaro Che Immagini Di Profitto Da Declarazione Planetare Sono Più Importanti Rispetto A Ma Mi Spieghi Perché Adesso Dovresti Essere Crashato Cioè Ma Nel Senso Ma Bambin Gesù Si è Rotti I coglioni Anche Il Gioco Si Cioè Vedete Che È Proprio Una Cosa Che Non C'ha Senso Perché Dovresti Crashare Lì Cioè Quale Stavo Fermo Stavo Letteramente Così All'edge Addio Madonna Allora Appena Troviamo Un save Oggi La Facciamo Un po Più Corta Perché Così Prima Della Prossima Volta Mi Metto Un attimo A Sistemari Fa Tutti I vari Problemi La Che Che Cazzo Fai Non Ti Si Crea Una Supernova Sui Denti A Meno Che Non Lo Smangiucchiano Fino A Quanto Possono Cioè Lasciano Soltanto Sta Bomba Nucleare Perché Eh Ma Il Fato È Che Se Tu Ti Avvicini Troppo A Nucleo Poi Rischi Che Esplode Una Stella E Se Esplode Una Stella So Cazzi Amari Veramente Dove Mi Fai Ricominciare Cioè Vabbè Che Se Stanno Nel 2400 E Cristo E Dio Avanti Cioè Sicuramente Ci Non troppo Veloce Che Sennò Il Gioco Crash La Cosa Della Fisica Che Se Fliccate Fanno Così È Veramente Bellino Buonanotte Fatta Ragazzi Poi Sei Stato Con Noi Vabbè Io Dico Stella Per Intendere Il Il Pianetuccolo Poi Arrivedo Io non è che sono Gli sa che Esperto Di Astri Stelle Universi E compagnia Però Immagino Che se tu Esponi Il Nucleo Di un Pianeta Cioè Bene Non gli fa Credo Poi E poi Ripeto Non lo so Perché Non lo so Sì Quello Sì Io ripeto Perché Giustamente Non metto Col fatto che Non sono Abituato ai Sci-Fi Io non metto In chiave Di lettura Il fatto che Stanno nel 2400 Cioè Quindi È quasi Una cosa Veramente All'ordine Del giorno Cioè Lo sanno Fare Ma Infatti Da quel Che abbiamo Letto Atterrano Giusto Per fare Di voi Gli esami Cioè Se mettono Ad analizzare Il terreno Per vedere Se è un Pianeta Buono Per mettere Le prime Robbe Che era Un infarto Cioè Loro Fanno Letteralmente Delle piccole Colonie Con la gente Che si Mette A fare Le analisi Di sistema Poi Cominciano A traparare Brutalmente A far esplodere Le varie Cose Toniche Quello Anche È vero Diciamo Che la Buona Vecchia Esplosione Non si Batte Mai No Due Accuccia Comunque La 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 pistola Qua L'hasa Non mi ricordo Come cazzo Si chiama La malplasma È diventata Bro Io non è Che gli colpivo Gli arti Gli sparavo In bocca Cioè È stato Un momento Alla cod È stato Semplicemente Un momento Codaro Questo Sparavo Alla prima Cosa che Vedevo E basta Madonna Ma io capisco Perché ti ci puoi fare Tutto il gioco Perché È fottutamente Broken Sta roba Perché Perché Poi Fa Da E E Taglia Come se Non fosse Niente Praticamente In dead space Sono civiltà Di tipo Tre Come minimo Quindi avranno sicuramente La tecnologia Per sfruttare L'esposizione Di un nucleo Che vuol dire Civiltà Di tipo tre Cioè c'è qualche roba Tipo che ti dice Quanto è avanzata Una Una civiltà Su un Dei miei Pianeta Perché Io Queste cose Sono Io vado Di D&D Cioè basta Porco Che figata Non la sapevo Sta roba Quindi magari Puoi Analizzare Fino a dove Possono Spingersi Determinate Civiltà Ma che figata Bellino Beh è una roba Proprio anche Che ci sta Nella vita vera Oh È una roba Proprio della vita Vera La scala di Non ci provo Neanche a dirlo In modo di classificazione Civiltà Tipo un Civiltà In grado Di utilizzare Tutta l'energia Disponibile Sul suo Pianeto D'origine 4x1016 Watt Tipo due Civiltà In grado Di raccogliere Tutta l'energia Delle stelle Del proprio Sistema planetario 4x126 Tipo tre Civiltà In grado Di utilizzare Tutta l'energia Della propria Galassia Ma che figata Ah Quindi vuol dire Che se tu Cioè Tipo tre Tecnicamente Ah perché è stato Schiacciato Povero Sì 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 È tipo Una di quelle Civiltà Finali Incredibili Che se Li guardi male Ti aprono Ti smolecolano Sul posto Perché dovevo Entrare qua Per il completismo Sì Basta Queste sono Le stanze Proprio quelle No Noi siamo una merda Anche perché Ragazzi Come Dice Non mi ricordo Chi Come possiamo Pensare di conquistare Lo spazio Se non riusciamo Neanche A convivere Con noi stessi Come Come puoi pensare Di andare Nello spazio Se ci Tiriamo Veramente I cartoni In bocca Con il vicino Di vigna Come si dice Nel dialetto Ah beh Perché stiamo Togliendo Tutta l'energia Sto schifo Chi è arrivato Emlock Buonasera Bello Da quanto Come stai Sappi che mi hai fatto Prendere un colpo Io te lo dico Emlock Sappi che mi hai fatto Prendere un colpo Prima perché stavo Avviando la live C'era il tuo La tua Preview Della tua live Non so che cazzo Stavi a gioca C'era la faccia Di una signora Mi ha fatto Prendere un infarto Tipo di un morto Credo Grazie per l'SO star Comunque come la va Eh sa Che stavo Stavo giocando A batman Ci proviamo A fare anche L'ultima cosa Dai 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 che ce la facciamo Ma veramente Mi ha fatto Gelare il sangue Perché mi son girato Ce l'avevo Lì full screen Mi ha fatto Prendere un colpo Calcone non l'ho mai giocato Star Democrazia a breve Jorak Sparo in bocca a tutti Eh tutte queste voci Sono loro Che parlano Con i defunti Tu sei Corro Cioè sei schizzato Perché stavi a parlare Con tua moglie Cioè veramente Mamma Schifo Ambulante Gigante Mercer la chiama Unicamente Un organismo Centrale Di controllo Telepatico Dei necromorti Se ce ne andiamo Mentre l'unicamente È attiva Ma Hai visto Novalor Se un solo Necromorto Fugge L'umanità È finita Ma il marchio Amelia lo sapeva Ha detto Che avrebbe fatto Riassofire la bestia Ok Quindi se riportiamo Il marchio Sui G7 Mettere a fine L'epidemia Esatto Ma ci serve La navetta Per riportarlo Sul pianeta Tu hai Un nucleo Centrale Sì Pallese Mendo Cthulhu Mi sia da Qualche altra Bestia Di Lovecraft Perché Che ne dici Se farà finire Tutto Ok Ottimo Posso distrarre Mercer Ma non per molto Porta subito Il marchio Alla sala Navetta Sì è arrivato Buonasera Emlock Come stai Bell Sì Ma Cazzo La mente Che controlla Tutti Si è spaventato Pure il gioco Sì Palesemente Sofì Di ospitare Spero Niente di Troppo Brutto Bello 7 Nuovo Rego No No Lilith Dopo la prima Non si può Battere La prima Non si può battere È imbattibile Non ti torna Il marchio Che controlla Il mostro Eh ma infatti Ma in realtà Lasciando anche Quella roba Star Ma in realtà Questo Cioè Pure se noi Mettiamo caso Che questo tizio Sta dicendo il vero No Riassopiamo La bestia Anche se Non c'è senso Perché Perché quel marchio Perché ogni bestia C'ha il suo Vabbè Ma tecnicamente Pure se noi Riassopiamo La bestia Noi siamo Comunque schizzati Cioè nel senso Per finirla Effettivamente Al 100% Oltre che tu Butti il marchio Là dentro Te spari In colpo In fronte Perché Cioè Ormai Isaac L'abbiamo capito È stato un po' Intaccato Da sta cosa Quindi se lui Torna Io poi non so Sta roba Se tu ridai Il marchio Se si assopisce Se tutti quanti Ritornano Ormai Non penso Perché se noi Unitologi Che sta fatta Era lucebino No Quindi tecnicamente Se devono ammazzare Pure tutte le persone Cioè Isaac sarà Il paziente Zero della terra Ah mi dispiace Se sono ritornati Spero che poi Ti si Sono un attimo Ricalmati La prima live È stata Passo Crash Passo Che sì Era diventata Una danza La prima La prima live Però Cioè Onestamente Mi puzza Come cosa Perché Ci stanno Delle robe Che vanno Un po' In De discordanze No Perché da una parte Tu c'hai I I necromorfi Che cercano Di riportare L'astronave Sul pianeta Perché se Riunire Il marchio Alla bestia L'assopisce Perché Perché so Palesemente Che sono Una razza aliena Infestante Che cercano Dei spandese Dei Immola Altre cose Perché vuole Fa sta cazzata Quindi Boh Onestamente Ne sta tornando Tutto È questione Di nervoso E emotività Purtroppo Però il set Ho le visite appose Speriamo tutto bene Bello Ah ok Altri due giochi Sì ovviamente Ci stanno altri due giochi Il padatrack Per forza Di cosa Succederà Che sia Sempre con lo stesso Marchio Con un altro Marchio E E tutto quello che vuoi Ma rimane il fatto Che secondo me Se ci sta Un'altra epidemia Un'altra cosa Scatenerà Da Isaac Perché tanto L'unico che abbandona Sta nave È Isaac C'è l'unico Che se ne torna A casa Bello Felice Felice Tra un paio De Virgolettone Però se ne torna a casa Bello Tranquillo È lui Però Sicuramente Ci avrà una riga duta Cioè perché Se è una cosa Che tanto Una volta Che ti entra in circolo Per la testa Piano piano Te fa schizzare Te fa schizzare E Se si rafforza Sempre di più Il fatto Che tu rivedi I tuoi cari Le persone morte Lui rivedrà Nicole Qualche puttana Di succedere È successo Tutto a casa Di mio padre Ho dovuto Fagli una rifiuta E quindi è successo Un casino No mi dispiace Madonna Mi dispiace Emlock E ando esterminando Torna a casa Isaac Sì sì Però torna a casa Con i flashback Del Vietnam Sempre più convinto In realtà anche Rivedendomi Live Che Daniels Sia palesemente Una spia Cioè Daniels È È una spia Dei Unitologi Perché Spiegherebbe Anche il fatto Del Mi pare Che è stata Proprio lei All'inizio Che Ho detto Scusa Ma se Questa è una roba Che se sta Immaginando Isaac Perché Nel video Iniziale Daniels La vede Daniels Non vedeva Un cazzo Daniels Gli faceva Sì sì E Nicole E Nicole Perché Lei sta All'ammezzo Per Unitology Palesemente Quindi Verrà il momento In cui Lei ci farà Tipo E in realtà Era una spia Merda Mi sono anche Trasferito Da mia madre A meno Guarda 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 Ti è tornato Alla connessione Visto che Stai streamando Parecchio No infatti Quello non è PTSD Quelli sono Letteralmente Diventare Schizzato Fracico Non ci sta Un Non ci sta Un termine Quello si chiama Essere schizzati Ma tanto fammi vedere Veramente mi ha diviso La live in due Perdonate ragazzi Per la live di merda Di oggi Ho una connessione Di Cristo Buono Quello Ecco Quello è da Cazzotti Sulle gengive Però figo Lasciamo perdere Tutti i vari problemi Crash Le cose Guardate il lato positivo Come ho detto Stiamo verso la fine Ci stiamo arrivando Io non mi vorrei fare Il new game plus Soltanto per sta cosa Perché se Il new game plus È giocato Come cazzo si deve Ce lo facciamo In una live In una Se si mette in mezzo Tutto sto Puttanaio di crash È a fine Quindi io Veramente Opterò Se vedo Che va a peggiorare Perché tra l'altro Avevo letto Un sacco di informazioni Che dicevano Che dal capitolo 10 Crashava molto più facilmente Non pensavo Così tanto Però se vedo Che veramente Fa un bordello Il finale segreto Che sono tipo 10 secondi Da quel che mi han detto Ce lo vediamo Ce lo vediamo Su youtube Ma non Io perché me lo vorrei Rijocare Però se dobbiamo stare Col patema D'anima Ma no Ma a parte quello Mi intriga Cioè è figo È una roba che È molto piccola Nel suo Universo Di argomenti Ma che è molto Ben strutturata Poi immagino Che corremic Hanno messo anche Dei paletti Meglio A destra e sinistra Ci hanno già dato Dei piccoli Int Hanno messo già Delle carte Che magari Si erano andate a sviluppare Ne altri giochi Quella è una cosa Che ha perso Veramente un botto Però che il finale Se chiedo Non sia quello Che penso io Altrimenti Mi incazzo Prima tocca A vedere il finale Normale Cioè se io Dovesse andare Così De proprio Naso No Io mi immagino Proprio classica Scena Del Isaac Che sta sulla nave Che torna Ma che sorride Cioè proprio Quella roba Del Però So schizzato Cioè Il Il finale Proprio sapete Quello Classico Da gioco Ambientato Nello spazio E' finito il puttanaio C'è Cif che se toglie L'elmo O mette là E se ne torna a casa Isaac invece lo fa con Da schizzato Fracico Fatemi tra l'altro Vedere una roba Vediamo se riesco A regalarvi Qualche puntucino Ma non credo Perché A storia Non ci sta mai nessuno Che belle le musiche Di 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 persona No Non c'è Buonanotte Già ragazzi Pensate con noi Ci vediamo domani Isaac torna a casa E pensa Di faccia Sì sì Esatto Vede Una qualsiasi Statuetta Qualche merda E fa Ma questo Si chiama Marchio E lo ricrea Perché Potrebbe essere Cioè Secondo me Ci sta pure Quella roba Del In realtà È stato attirato Qua da Nicole Perché Magari Boh Cioè C'ha le conoscenze Per crearne un altro Però Ripeto Per adesso Ci sono due linee Di trama Che fanno così Cioè perché Ce ne sta uno Che dice No vogliamo conquistare Il cazzo di mondo L'altro dice Eh no In realtà È al contrario Proprio E tu fai Boh A domani Comunque Beh Che dato domani Si gioca Baldur's Gate Finalmente Sì Ah comunque Ragazzoli Oggi live È un pelino Più corta Un pelino Più C'will Anche perché Adesso si comincia A tornare Diciamo A regime Quindi E si eviterà Di fare Quattro ore De live Se andiamo Si torna un po' Sempre su quelle Due ore e mezza Tre Baldur's Gate Tre Hanno fatto Hanno fatto che Potete unirvi Mid sessione E vi fa Creare Anche il pg Se poi Non è uno Di quei pg Che rimane Per forza Nel gruppo Io avevo In mente Di fare Dei momenti In cui Magari La c'entrava Soltanto Oga Che chiamava Tra virgolettoni Gli amici E andavano A fare Magari Quelle piccole Sezioni Di game Stupide No Il assaltare Un dungeon L'assaltare Un campo De banditi Quindi Me la studio Dietro le quinte Perché adesso Potete entrare Effettivamente Sì In mid game Star creandovi Anche il personaggio Che livella Si adatta E tutto Però me la studio Un attimo E magari La implementiamo Nel live Perché mi piacerebbe Anche giocare Con voi Esatto Anche Sarebbe Buono Che Isaac Fa boom Non credo Col fatto Lì Col fatto Che ci sta Dead Space 2 3 Isaac Final 3 C'ha un plot armor Sul culo Spesso come Quello di Nicki Minaj Però Me la studio Un po' Dietro le quinte Vedo un attimo Come work Faccio anche Dei test Miei Per vedere Se poi Sabe Perché La mia preoccupazione È che Solitamente Nei multiplayer Di Baldur's Gate Quando entra Qualcuno Quello poi Sta attaccato Là con L'attack Cioè Voi per Staccare Quel pg È a fine Del mondo Quindi vedo Il miglior crash Della live Mai visti Al mondo Solo qui Sulli TV Eh Tanto Anche Madonna Che cazzo Di vento Che sta tirando Ma comunque Io vi ringrazio Per la compagnia Spero che la live Vi sia piaciuta Mi dispiace Un po' Per I 1500 Crash Ragazzi Resistete Perché The Space 2 In realtà The Space 2 Un cazzo BioShock 2 Bioshock 2 Sta dietro L'angolo Mi raccomando Riposatevi State al fresco O al caldo Dipende Dove state In Italia Ricordate sempre Corgi Gang Fa bang bang Buona notte a tutti Grazie sempre di tutto Ciao 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 Sous-titrage